buongiorno a tutti sono simone faugno il country rental sales manager e mi trovo qui al fleet motor day 2021 a presentare la gamma i tech di renault i tech cosa vuol dire i tech sta per la e con electric tech per tecnologia oggi renault sfrutta la sua conoscenza ormai decennale sul mondo elettrico sfruttando anche quelle che sono stati gli investimenti sul mondo della formula 1 e oggi noi riusciamo a prendere a pieno queste nostre conoscenze ea poterle come dire utilizzare sulla nostra gamma la gamma i tech gammi tech che parte dal principio dell'elettrico con la piccolina twizy divertente per la città per salire poi sulla twingo oggi attualmente possiamo definire la regina della città salire poi su zoe storico prodotto di renault che ha dato moltissimi successi sia alla renault ma direi proprio al mondo in generale delle dell'elettrico passiamo a tutta la gamma ancora i tech con clio captur la megan e la nuova arcana che per oggi per noi sancisce un po come dire l'aggressione sul segmento sul segmento c il mondo i tech è fortemente voluto dal nostro seo e si inquadra perfettamente all'interno di quello che è oggi il termine reno luci che sancisce il ritorno di di renault in un segmento molto molto importante un percorso che stiamo facendo per rendere di nuovo reno protagonista nel mondo soprattutto nel mondo elettrico quindi nel mondo verde che possa sfruttare appieno le nuove tecnologie